ok ci siamo ok allora bene iniziata la steam ok allora vediamo se c'è guarda anche tu se la vedi ovviamente sicuramente ci sarà gargamella gargamella piace il tempo mi dice che è in live ma non vedo niente ok adesso vedo perfetto ok partiamo subito andiamo inizia la partita ok ragazzi allora no è me anche cosa è merck è merck chi ma dico merck te l'ho appena detto quando arriva poi esce ma l'hai detto tutto lo sei inventato no l'ha detto lui ha detto che torno prima di uscire l'ha detto lui non me lo sono inventato io lo dici tu? si lo dico io ok ma io faccio quello che capito l'ha detto faccio quello che vuole o katalina dc the wind no basta ben già fatta monotono son hdc no ma faccio ti mojang va bene va bene no non lo so voi vediamo dai ti prego ti prego ti mojang 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 io direi di mettere le maestrie di soraka jungler di si ho sbagliato soraka jungler eccolo qua ok allora ragazzi devo potenziarmi al posto di potenziare questo devo potenziare questo direi due su questo uno qua si ok adesso ho già messi tutti giusti sono un mostro perfetto così almeno ragazzi facciamo un po' più di danno perché sennò siamo messi veramente bene ma si dai caro ragazzi tre due uno vai capitantimo in azione ma no ma come me guardate nasce a a a a a a a a come sempre a a a a a voglio jinx e si mette anche a piangere eh di nuovo a lui che palle av un mmmm no 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 che un gruppo di b perché non ci posso credere basta porca miseria perché sentivo rumore delle dello scadere delle del tempo non lo voglio sapere ho scritto jungler no no si 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 no non è scritto te l'ha rubato lo scelgo prima io poni 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 guarda che allora vado e ritorno vai un po un po' ci saluta in ruota buongiorno buongiorno però io non l'avevo la chat aspetta un attimo che non l'avevo la chat porca puttola aspetta però che entro nella dashboard perché sennò non li leggo i messaggi a 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 al a a a a non ok allora mannaggia pino pino facciamo pubblicità occulta pino c'è pino non lo so cos'è pino c'è ma vuoi mettere ultimo giangler con con un lisin muncia taiwan signor taiwan cosa vuol dire non lo so non ha senso tutto ciò non ha senso allora notta dc d no con cd cdc support 3 x x x x sì, no, in verità non ho scritto ma sì, c'è Draven, ADC, poi c'è anche Corky, ma sì, chi cazzo va mid-Z? poi Z va mid-Z, non lo so, della nostra squadra chi è che va mid-Z anche? cos'è Z contro Z? così sicuramente tanto, è verità I don't care, i love it sì signore ma la pagata la giungla è una lei ma degli evocatori non pensavo che la giungla è una lei fosse una lei buona la lista non è un uomo 10 l'esplosione le cose immagini grazie il bambini no e' nella lista e' vecchio ma non è vecchio ma non è vecchio press d nf for special dance vai qualti fallo per lo farmi stessi da un po' di non lo fare da metti ti do anni fammi da no per cammini cavolo ok ma non ti posso continuare a scrivere cazzo sono poi sono in partita non sarà facile la cosa stai facendo quanti valdi via 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 oh cacchio no cacchio ok l'ho fatto senza che cacchio sta succedendo ti prego hai fatto senza smithless ho fatto smithless smithless ma cosa cos'è negazione con negazione cacchio cacchio e 8 negazione cacchio cacchio oh mio dio cacchio 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 non ha saluto non è vero chiaro non ha se non è vero non ha se cosa è quattini e riuscita voto che stiamo che la faccia di posti un paese che si già perso ma va benissimo giusto oltre a me il gemello farsi capito che volevi addirittura vincere ma scuola non è vero se lo so non ci posso credere adesso voglio perdere per i mignoncini spazio stana bioncini madonna mi sono per uccidere porca tana e la cina penso che leoncini per te leoncini prezzo potrebbero scendere la riciclatoria signora quanto fuori ma come si troppo si signori troppo pro arrivo arrivo è troppo pro la stradici arrivo bot arrivo bot arrivo bot arrivo e ma cosa fa? perché fa la capriola e colpisce il minion? non colpisci tre vento portare incoglionita arrivo arrivo faccio il giro da dietro così mi ammazzano ottima idea focus supporter for the win ok vai vabbè io vi robò un po' di min vabbè 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 tanta nostra decifasti finta tira meno tu perché la nostra decifasti madonna mia lisciotto panzerotto focus 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 supporter for the win olè 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 tipo jungler for the win ragazzi l'ho detto eh l'ho detto troppo forte troppo forte troppo forte troppo forte troppo forte l'ho detto sessignore un pro oclus nato colpito lo stesso puttana ti fottrini non ti preoccupare ti fottrò solo i minion ti fottrò ti fottrò ti fottrò la nonna la nonna che bocca chi d r r r ma scusa mattino cosa serve il blu agnes serve per la pancina per la pancina ma cosa stai dicendo hai capito cosa è la pancina per il concime per la pancina cos'è b la pancina per la pancina per la fame per la vita per la merito il stile in di non 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 smetti del uccido l'ucido l'ucido no non l'ucido ahahah 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 lucia 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 basta me sto camorendo test stai a morire dai che stai a morire quindi comunque ti mostrerò che c'è spuglio vedere quando quando vincere c e da noi prende un po' ma ti acceco mi acceco ma io mi nascondo qua qua diventi invisibile da l'uomo finisciuto l'uomo finisciuto sta facendo ma il bb streamer bb streamer minchia bb streamer porca puttana ea ea arrivo forse prima fanno salire la salvo ma della la il l'uomo l'uomo p parisi il selvatico no ma guarda attenzione ma tutto il suo plascio il senso l'attività l'ho detto cosa cosa vuol dire io volevo solo sarial sei mano guardare netton non fa niente di danno proprio 0 completo madonna mia ma schifo devo aiutare un po troppa gente devo aiutare zed mid devo andare ad aiutare quello top basta no basta a far suonare il telefono non lo devo rispondere ma non rispondere ahahah mio padre lo richiede ahahah ahahah ma anche sto cazzo mi sciotta cos'è a basta sto telefono che squilla ostia zed di merda sei in coesione o cosa direi che oh cazzo un coso di draven che arriva c'è un coso di draven ma muori che cazzo non voleva morire sta prostituto piazziamo funghi a caso che cazzo che cazzo succede il mio personaggio si blocca vaffanculo cazzo 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 ma vaffanculo vaffanculo ok vaffanculo eh bravo bravo che cazzo se ne frega and cazzo 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 colpito ma one challenge ahahah i sogni di prezzo no sono cazzo 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 perchè sì perchè sono un po' tutto professionista che palle 3 3 3 4 mori ma sapensi farmi ma cosa pensi di si ma neanche te non so bene come fare oggi ma che merco forse può per fare della roma e quindi prezzo e forse deve andare a tiro e eh ma quando so qualcosa come e e sexy e e e io vai e al centro i e i 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 ma faccio quel volo beh, ciao io lo sento un po' anche gli altri chi ero? e chi è? va bene ciao chi è? chi è? guardi vediamo se facciamo qualcosa ma dove cazzo gli spari? ti prego muori si si ma addirittura guarda non ti ho visto che stai arrivando come un pirla non ti ho visto non ti preoccupare non mi faccio la piantagione di fu io cosa pensi di fare? ma attaccami sotto tono dai dai vieni 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 subito dai vieni ins mi vorrei vieni subito vieni subito vieni subito vieni subito botta 1 2 3 ganko driven non aiutarmi eh tizia grazie dell'aiuto ti do una mano io ti do una mano io ahhhh no me l'ha rabbato prostituta me l'ha rabbato a me mi fa schifo sarebbe basta guarda io non so come fai a giudare con delle genti così ma dai non mi trampare al mini minion sono miei però ho fatto uccidere i compamenti ma vai vai uccidere ti prego muori porca puttana madonna mia cos'era porca troia no mamma mia la cittata a raggio di lux e c'è arrivato anche l'attacco di draven cos'è ancora qualcosa non ce la facevamo far arrivare vi prego ma che cazzo sta succedendo l'alzo mi sono indicato cosa mi devo comprare non lo so di solito cosa si compra in denti no ma non c'è voglia di comprare il denti no non mi serve non mi serve un belino un po' forte anche se uno due due ehi pirla pirla ma questa doppia uccisione doppia uccisione vado avanti io non ma io sono anche io che non ha deciso si che lo uccido vaffanculo non muore lui è rimasto con un niente di vita comunque io sono questo questo qua no basta che falla ti chiamano tutti pronto eh cosa c'è beh cosa facciamo vabbè viene entrando un attimo su skype ciao che ti rompite ma c'è sta gentaglia al rapporto secondo me no non mi aveva visto no sicuro non mi ha lanciato appena adesso un pene di gomma mamma mia si signore ha lanciato un pene di gomma eh sì si ha lanciato un pene di gomma si piazza funghi piazza funghi for the win ma cosa fai ma cosa fai ma basta ma cosa vuoi fare ma ti distruggo ma ti distruggo vieni qui ti distruggo ti distruggo ti distrugchio madonna mi è mancato ma cos'è ti distruggo mamma mia meh si signore mortale draven che cacchio non d ma ma no ma no ma no 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 ma stop piazzando fu posto ho appena visto un lì vai 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 che lo distruggiamo vai ma che prende tutti i miei funghi bravo vai così vai così me lo rabbuglio ma franzi ti prego vieni stanno a rango si si signore avrà due di vita avrà dieci di vita e vabbè in arresto primo jungler for the win si devo ricollare un altro no dai ci spaccano la torre vabbè se non ne voglio sto arrivando non sono abbastanza veloce donna mia guarda quanto cazzo gli tolgo ti prego se ci se ci gankano togliamo tu muori io io non ho preso dai vieni madonna veloce veloce le colla porca puttana che cazzo fai vain brutta incoglionita aiutami vain madonna è schifo c'è solo a rabbare di madonna mia non è possibile non è possibile la tua squadra distrutta una torre bravo distrutta una torre complimenti che faccia i miei complimenti cioè sei troppo pro a rapporto fa un c***o con la puttana che mi ha ucciso mi devo vendicare non è nata stabile arrivo 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 fai volare la gente che io sto arrivando eh ma arriva già zed che li spaventa guarda che la massa da zed guarda che scusa cosa fa madonna mia gli dà anche una mano di sin ma cos'è perchè gli smita una mano ti prego un assesto lo vuole bere ma va distrutta distruggiamola turna si sfuggi tu si sfuggi tu ehm vai squadre bombe è in faccia io piazzo scappiamo vai 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 che passano sopra i fogli l'epoca la wii fa ma donna hai visto quanta vita io ho tolto ti prego dimmelo dimmelo si sei che guardava la vita canali pt sono in bufale fammi da tank sulla torre ammazziamoli sin prima ma vaffanculo che cazzo succede grazie ma che cazzo fate ma siete deficienti madonna mia siete rinquiglioniti oh no no quasi ucciso davvero quasi ucciso sono morto non è possibile ma basta che passa sui miei fungo ti prego basta sui miei fungo no recolla lì in mezzo mi fa ora quanti cazzo di funghi ci sono in mezzo no no ciao torre no 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 ci vuole attenzione la torre resisti torre è the best ma questo torre è il Se non arrivo più a me Ciao Thor Grazie Vayne Sei un Milton Sei un Milton Sei un Milton Ma ti robbo i minion Ma cosa vuoi fare Ti robbo tutti i minion Sì bene Così rimane all'unice Vai 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 Convergiamo tutti su di noi Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì tu 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 LOL LOL vao va che la matiamo fammi il tank fammi da tank veloce veloce Dima, ma spiegati da che stavo nello! Sì, però c'è scappa, scappa, scappa via, scappa via! Ma come stanno portando? Piazza, 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 piazza! Ma se stai fai cosa? Prent vai lì! Non mi ha fatto niente, non mi ha fatto... Stai un po' di sciù! Ma cosa? Mi ha detto un po' muori, Prentz! Stavo a prendere un mucco di pozzo... Non mi sei parare, non rosicare! Cosa? Cosa stai dicendo? Sì, signori! Io mi faccio anche armi... Senza vita, vai! Mi chiamo, muoio, muoio, muoio! No! Per passare di là dove ti tiravano adesso dal lupo! Io non muoio mai! C'avete un alux dietro? Che la shottate, come ho fatto io prima per cazzo! L'ho sbagliato, ho fatto una cazzo! L'abbiamo shottata di brutta maniera! Non mi sono mai mai... Ma mi prendo il tomo, è già il rubanime, basta! Cos'è? Tom e Jerry Ruban... Cos'è? Taffa! Taffa! Bravi! Bravi! Gigi! Tom e Jerry Ruban... Il Tom e Jerry Ruban... Il Tom e Jerry Ruban... Siete troppo pro... Cioè, c'è rimasta vain! Rimasta vain! Vita! E distrugge le gorri lei! Ma cos'è? Non ci voglio credere! E' molto di sé! E' mancato! In quanti ti stanno guardando, Fred? Non lo so! Mie lo so! è come Slenderman si va in la foresta per rave fizz rave fizz? non lo so io! sta arrivando, lo uccidiamo chi è che vuoi uccidere? ma non ci posso credere, ma che succede? la vain più ritardata di sempre ma ti shoto! boom! boom! handshot bitch! ho già due cariche del tom e gerubani spera che non ci sia nessuno qua, se no mi incazzo, ok ma prendi il fungo ho già fatto cosa ha ha ciao whatsapp whatsapp ah arrivo, arrivo, non ti preoccupare, arrivo oh quanto cazzo il tolgo troppo io piazzo 10 mila funghi farà quanti cazzo di funghi ci sono in giro in giro per il mondo ci sono 10 mila funghi iiiiiii me 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 piazzo funghi ovunque everywhere muocio ma è di un uomo ma vai così in bravo colpito cosa atroci che capitano solo cose atroci perchè corchi al 17 oh mio dio è super fiddato io ne ho 9 ne ho 9 mamma mia capi se ne frega e corchi ap no è forte corchi ap ma cazzo spari è fortissimo ma dove andate passate di qui ci sia passare dall'altra parte sarebbe bello che cazzo vuoi fare che cazzo vuoi fare l'hissing di merda mi sta implodendo no 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 non torni indietro che c'è l'aria che c'è brutto dove andate vieni vieni rabbiamogli cose perchè mi hai rabbato a piccolina è stato ora abbiamoci cose io me lo so è uscito un po' è uscito un po' è uscito un po' è uscito un po' ma devo fare più kill niente o più kill facciamole subito il piazzogli il prova da rilavi non puoi ai funghi sì no quello lì ha tutta la vita e ha tutta la vita in me oh me siamo servizi eh eh Provavi eh Good try Non sai cos'è? Sei vivo tra gli inferi Significa BAMP Non c'è voglio Dai Dai stai a casa Adesso c'è da stiminio e poi vediamo Sì signori Non potete giocare le pizze che palle Dai friend vieni anche tu su No non me ne prendi No non posso Perché Deve andare a tiro Non c'è andare Dai non c'è andare E' terzo giro di tira che stai andando tiro Non è vero No pro c'è Quello che dico io è legge No quello che dico Però sei gay Facciamo un'altra cosa Anche quello che dico io scrivi Ho capito la battuta Eh che simpatica che c'è rinca Non lo so Ma vai tutti 3 tira 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 La cross de muro Cosa L'ha ucciso lui Ho fatto a cross de muro È ucciso lui What the fuck Tira il e mi hanno fatto il piano quando andrei di poste vai tenca la torre che la distruggiamo madonna mia guarda quanto gli tolgo oh mio dio scappa via veloce dai piazza lo dico no no un cazzo di vita direi che a mai essere collo no non mi sono comprato tome jane ubani perché sia un mucchio di città di chi no sto facendo timo a giangler mark cosa sto giocando la gente no si disconnesso porca non ci voleva adesso no ma non si è disconnesso non so ragazzi non si è disconnesso scavato no lo posso dire per certo pronto e armato pronto e armato via sono pronto e armatissimo no mamma mia iper shotting Iper shotting time vieni qua lux vieni qua lux vieni qua lux tana no ma che fallo vieni cosa fai LE DOUBLE KILL LE DOUBLE KILL eh guardi finisco la partita e poi boh mamma mia le viste le doppie mamma mia ahahah ahahah non ci posso credere sei veramente un buu questa era una cosa assurda ahahah spavolo questo è spavolo timo noob timo noob ahahahahah timo noob i'm sorry for you sorry for partito sorry for partito ok papponi io vado papponi di doran cappa veloce che veloce sono ti ricordi noi siamo in giro ah ciao chiamami 1 2 ok che magari non si si dico di sempre sai che ti deraccio porca miseria ma sono lost quindi richiamala te no cavolo non uscire adesso porca puttana dimmi qua vabbè non chi se ne frega anche se non parliamo se non lascio collegato bisogna no devo chiederlo senti chiudi resta su si chiamo io ok io eh chiama tu vado avanti io adesso non chiamo vabbè quando potete quando potete chiamar si ciao ok allora a rapporto un alleato è stato ucciso ahhh un alleato è stato ucciso ahhh un alleato è stato ucciso ahhh un nemico è stato ucciso ahhh mini non ha un caso di vita dove cavolo andavo e me ne sono stati tranquilli 1 2 1 2 4 c ma ho fatto appena da solo ma fuori muore 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 dai non può non morire arm o no vieni qui vieni qui brutto prospetta no dai ma cosa fai rengare netton un nemico è stato ucciso mi ha fatto perdere i big soldi scappa big soldi madonna quanto tolgo con i funghi 13 ks 13 ks cosa ma se faccio le doppie da solo ma state zitti ma cosa scrive questo osvaldo 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 paniccia osvaldo eccomi eccomi sono arrivato sono arrivato il peggio jumping è arrivato aia mi ha intrappolato quella più prostituta di merda aia mi ha colpito devo piazzare funghi a caso devo piazzare funghi a caso un po' di qua un po' di là un po' di su un po' di giù un po' qua in mezzo grazie per la vita aia una cosa si è allungato la città non è che si è alta aia cazzo fare in carrile sd ti prego aia aia un po' di un gruppo di cartana in pazza io ho paura che siano lì si vabbè ma siete scemi allora ma vaffanculo cos'è big shotling oh mio dio cos'è successo erenekton gay guarda io non lo so l'attore ha distrutto la squadra cosa fa? cosa fa? si butta in mezzo lui vuole morire si che sarei anche un po' tank e ammazza di sin è morto sta per morendo sta per morendo madonna mia hai visto come evita ierre io non lo so guarda vane guarda vane che cazzo fa? ma non ci posso credere ma cosa fa? no ma 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 che ti be ma che ti be i fear lives sono everywhere stampato vada una velocità assurda mi raggiungo io oddio quanti minuti mi raggiungo tutti non è possibile che non prendano neanche un fottutissimo fungo scusate ma se io metto qua e metto un fungo cross devo andare adesso eh dovrebbero dovrei ammazzarli tutti si vado a fare un po' di pulizia di sotto pulizia? si dai buciamo tutti pulizia buciamo tristodio in tempo zero scusate con il conto scusate con il conto scusate con il conto scusate con il conto doveva torna in unicità ma non fanno niente ma non vittorio di rene conciutto lontoi armati arrivo vaffanculo mi intrappola sempre a me stana ma che cazzo ehi occhio dopo lei muore ma no perchè li lanci indietro ti prego cosa fai ma cosa hai fatto lanci sempre indietro quelli sbagliati ma mi muore eh ho capito ma se gli lanciavo qualcosa non mi poteva più colpire non mi faceva niente ma è schifo io ma vaffanculo bravo bravo vai adesso è spawnata Vayne dove va ti prego dimmi dove vuole andare dove vuoi andare muore guarda ti prego guarda che la sciocca oh mio dio dove stai andando è immortale è loooool ma cosa fai qui cosa fai cosa ha fatto corki ti prego siamo 38 38 che abbiamo perso cosa fai adesso no match ma scuola non c'è un mc giugno era sto schifo 124 200. 100. mamma mia di partita guarda il mio scorcio a 13 6 9 non so sotto i bambini sotto i bambini oltre vai e mandato al buon lavoro tirano zucchero anche per me no la giardina oltre in passare a bici online 241 line poche amici considerando per il mondo tutto il mondo il timo adesso è timon abbo va bene ok sono poco fatto più soldi quello che ha deciso ma coltivo quello che ha ucciso più persone che si per il miglior stessi con cinquanto non ci si non ci vuole 54 ieri programma no ma stai qua come ora no vai vai a dirà lo zucchero no non ci va a dirà lo zucchero ah ciao domani giallo io spero che muori occo il punto oddio aspetta devo provare una cosa oddio